Forse è vero quello che da sempre i saggi dicono riguardo le storie, cioè che le grandi storie non si inventano mai, ritornano. Quello che noi raccontiamo da tanti secoli, da quando i greci hanno cominciato a definire quello che noi siamo come europei, ma forse persino da prima. Tutto ciò che noi narriamo in un certo senso potrebbe avere a che fare con una specie di inesauribile pozzo mitologico nel quale noi andiamo a pescare storie che sì, rinarriamo, riraccontiamo, ma che in realtà nella loro essenza sono da sempre esistite e da sempre esisteranno. E infatti, forse per questo motivo, allora quando anche nei nostri fenomeni pop contemporanei noi ci imbattiamo in alcune grandi storie, queste storie hanno quasi sempre una eco che ha a che fare con gli antichi miti, con gli antichi archetipi, cioè con quelle forme fisse della conoscenza, con quelle forme originarie, archetipos, che taluni pensano facciano parte della nostra psiche, della nostra anima per così dire, e dunque sono delle forme universali che vengono evocate dalle storie, che non vengono create. Sicuramente una cosa del genere ha a che fare con l'idea che quando noi incontriamo fenomeni appunto come dei film, delle fiction, andiamo in cerca di quei significati più antichi che pure li riverberano e che i grandi classici avevano già raccontato. Ecco, è sicuramente questo il caso di A Star is Born, cioè questo film che è stato riproposto in realtà a dire il vero tante volte nel corso della storia del cinema, negli anni 30, negli anni 50, negli anni 70 e poi l'anno scorso, nel quale la trama parrebbe a principio qualcosa del quanto semplice. Una fanciulla, una ragazza che è sostanzialmente sconosciuta incontra un artista che invece è all'apice del successo, il quale tuttavia come molti artisti sta facendo i conti con i propri fantasmi interiori e in questo corpo a corpo con il suo talento in realtà lui riesce a forgiare lei come grande artista donandole poi il sentiero del successo, ma mentre questo avviene nel loro amore lui invece si spalanca la via verso quegli abissi interiori che si portava dentro. Questa storia con tante variazioni si appunto ritorna negli anni 30, negli anni 50 e nelle storie più recenti con un accordo a quello che è lo zeitgeist se vogliamo, lo spirito del tempo dell'epoca, ma più profondamente quello a cui assistiamo è uno sfasamento riguardo al tempo. Ecco perché credo che il tema così affascinante di Pop Sofia 2019 possa avere a che fare proprio con questo archetipo qua. Con questo archetipo vale a dire relativo al problema del tempo e dell'identità correlatamente, allora quando noi incontriamo questi concetti tempo-identità in una storia di ordine romantico. Per meglio dire noi siamo affascinati da A Star is Born e forse il successo di questa pellicola risiede proprio in questo, in quanto in questa storia riverbera l'antico significato dell'amore tragico. E questo è l'archetipo con il quale abbiamo a che fare. E la questione è che sempre l'amore tragico per mostrarsi deve avere a che fare con uno sfasamento di tempo, con un tempo che non riporta. È evidente questa cosa nella fiaba d'amore più celebre mai scritta, vale a dire Romeo e Giulietta ovviamente. Anch'essa non è un'opera che inventa William Shakespeare, il quale come sapete non inventa nessuna storia, le riprende tutte dalla tradizione, non a caso. E quando Shakespeare deve però decidere il modo di narrare Romeo e Giulietta, sceglie di propendere per il registro della tragedia. Voi sapete che Will Shakespeare, chiunque egli o lei sia stato, aveva al suo arco numerose frecce da un punto di vista narrativo per poter narrare storie. Vi sono historical plays, drammi storici, vi sono comedies, come molto rumore per nulla la bisbetica domata, e poi le grandi tragedie, Amleto, Ray Lear e ovviamente il nostro Romeo e Giulietta. Ma la cosa che ci interessa qui adesso è il fatto che Shakespeare orchestri Romeo e Giulietta tutto attorno a un fraintendimento di ordine temporale. Perché se Romeo fosse arrivato un attimo dopo o se Giulietta si fosse destata un attimo prima, i due si sarebbero sposati e avrebbero probabilmente vissuto felici e contenti. Solo che a Shakespeare non interessava raccontare quella storia lì. A lui interessa narrare una storia in cui i due giovani amanti di Verona si danno appuntamento non in questo mondo, ma nel nulla. Esattamente la stessa storia con la quale noi abbiamo a che fare, ed è questo a emozionarci, è questo a interessarci come esseri umani coinvolti nella questione, con questi film qui, laddove appunto se si fossero incontrati in momenti diversi delle loro vite costoro avrebbero potuto amarsi. Tuttavia, lo dice senza dirlo il film in tutte le sue versioni, lo spettatore capisce anche che se questo fosse avvenuto i due però non si sarebbero dati quella forza d'amore che li ha resi quello che sono. In altri termini più chiari e forse un po' più brutali è come se l'amore romantico dovesse mostrarsi nella sua forza liberatrice reciprocamente tra due soggetti soltanto nella possibilità della non soddisfazione del desiderio d'amore. Infatti non è un caso anche che le grandi leggende cavalleresche da cui Shakespeare prende le mosse per Romeo e Giulietta cantino sempre un amore sospirato, agognato, è una dama sempre pensata in maniera oltraterrena, quella delle leggende cavalleresche, ma mai vissuta veramente e così accade qui. Romeo e Giulietta non possono incontrarsi perché si amano in un modo che non è di questo mondo e per conoscersi veramente per quello che sono devono darsi appuntamento in un mondo che non è questo. Nel film Star is Born la cosa avviene in quanto la fanciulla da principio non sa ancora di essere una straordinaria attrice, nelle prime versioni, cantante nelle seconde due, quella degli anni settanta è la nostra più recente, ma lei diventa esattamente ciò che è destinata ad essere in quanto una persona per prima la guarda in quel modo lì. All'inizio del film è soltanto una fanciulla che lavora in una maniera molto umile e che canta per diletto la nostra protagonista, diventerà se stessa attraverso la magia che rende tale un soggetto quando incontra una persona che lo vedi in una maniera diversa. Vale anche però in maniera negativa allora quando qualcuno ti guarda senza riconoscerti. Molta gente vive una vita di disperazione in quanto le persone, la persona che è a fianco non è in grado di vedere nulla di più rispetto alla quotidianità e magari restringe lo sguardo senza riuscire a vedere quanto di profondo e di grandioso vi sia in qualcuno. Qui esattamente l'opposto. Il protagonista, interpretato qui da Bradley Cooper, si innamora di Ellie, interpretata qui da Lady Gaga, in quanto lui scorge in lei qualcosa di ulteriore, di più grande ed è quella magia che scocca nell'istante in cui i due si innamorano. Però, e vedremo tra breve perché, non può andare a finire bene. Quasi tutte le storie potrebbero definirsi storie d'amore in questo senso. Già che il termine che noi utilizziamo per definire i protagonisti di ogni storia è un termine, eroe, che ha a che fare etimologicamente proprio con il concetto d'amore. Eroe deriva da eros. Per cui molte imprese eroiche hanno a che fare esattamente con la scoperta di questa identità più profonda relativa a quest'idea di amore. Andare al di là dell'apparenza per scorgere qualcosa che sta al di là. Improvvisamente il nostro protagonista qui vede in lei una songwriter, cioè una che riesce a scrivere canzoni. Fino a quel momento lei non lo sapeva, in realtà lo è, ma lui riesce a vederlo in anticipo. Anche qui c'è una sfasatura tra l'amore e il tempo, perché l'amore guarda qualcosa che è semplicemente potenziale ma non ancora attuale. Eroico in questo senso può definirsi ogni gesto che all'interno delle storie avvia il nostro protagonista verso un'avventura che lo condurrà ad essere quello che è. Ogni storia infatti è una ricerca dell'identità e ogni gesto nelle storie viene definito eroico in questo senso. È un aggettivo che noi possiamo utilizzare in tanti modi. Eroico appunto è la scoperta della propria identità. Eroici siete voi che ascoltate una conferenza di filosofia sotto 45 gradi. Eroico è un termine chiave che riesce a darci la matrice, la funzione essenziale di quello che è una storia, vale a dire la scoperta più profonda di un'identità, ma perché questo accada ecco che appunto serve una chiave diversa, una visione diversa del mondo, che è nascosta qui appunto nell'essenza dell'amore. Non a caso, dalle battute più celebri, sempre di William Shakespeare, di Romeo e Giulietta, vedete come questo prodotto contemporaneo, pop nostro, e un archetipo antico, quello di Shakespeare, corrono in maniera parallela. Una delle battute più celebri dell'opera è quella nella quale, essendosi incontrati soltanto una volta e si rincontrano ora per la seconda, Giulietta apostrofa Romeo con la famosa domanda, o Romeo, perché sei tu Romeo? E subito rinnega tuo padre, rifiuta il tuo nome e io non sarò più una Capuleti. Come a dire che, certo c'è un fatto contingente, come sapete non possono incontrarsi perché lui era il figlio della famiglia dei nemici, eccetera, ma a livello filosofico più profondo e in Shakespeare c'è sempre questo significato, Romeo non può essere solo Romeo perché incontrando Giulietta c'è un'identità diversa, tant'è che Shakespeare sente il bisogno all'inizio del dramma di farci sapere che Romeo è innamorato di una certa Rosalina, che nel dramma neanche vedremo mai. Ma poi, penultima scena del primo atto, lui incontra ad una festa lei, Giulietta, e tutto cambia. Il mio cuore aveva mai amato, occhi rinnegatelo perché prima d'ora voi non avevate mai visto la bellezza. E tutto cambia, tutto cambia perché lui viene guardato in un modo differente rispetto a prima. È esattamente l'archetipo che noi ritroviamo qui in A Star Is Born, solo che appunto deve finire male. Deve finire male perché c'è uno scarto tra quel mondo che loro si creano, quel rapporto così intimo che nasce tra i nostri protagonisti e il resto della gente, e forse perché quel sentimento è vissuto a un livello di tale intensità che se portato a delle conseguenze normalizzanti non potrebbe essere esperito fino in fondo. Shakespeare ci sta dicendo, e forse è la parte più inquietante ma anche la più affascinante del suo teatro, che il vero amore, vissuto a questa intensità, non è possibile, non lo puoi vivere, lo puoi immaginare. Per questo motivo, ed è un'anomalia nel cinema contemporaneo, un film come questo ha successo anche se finisce male. Lo sapevate che Bradley Cooper moriva? No, non voglio aver fatto uno spoiler, mi dispiace, però l'avevate intuito, se no non avrei preso Romeo e Giulietta, avrei preso un'altra cosa. Muore, ormai lo sapete, mi dispiace. Ma se avete creduto un po' a quello che ho detto, capirete anche che non è importante mai lo spoiler, è un finto problema, perché non è importante sapere come la storia finisce, le storie, siccome non si inventano, non hanno nella sorpresa del finale la loro forza, ma nel modo in cui vengono narrate, nel loro storytelling, per così dire. Quindi non vi preoccupate, dico tutto questo per giustificare lo spoiler che ho fatto. Ma c'è un motivo per cui deve andare a finire così, e forse lo comprendiamo con un'analisi che una scrittrice francese dedicava a Romeo e Giulietta proprio, e diceva, ma immaginiamo che a un certo punto davvero Romeo fosse arrivato un istante dopo e quindi l'avesse ritrovata viva. Sapete, no, la storia, Giulietta prende questa pozione, datale da frate Lorenzo, di modo che lei possa apparire morta a tutti e quindi poter scappare con Romeo e loro vivere felicemente la loro vita e cambiare le sorti di Verona. Il frate scrive a Romeo, ma Romeo non riceve il messaggio, perché la mail finisce nello spam e quindi Romeo non sa della questione, sa soltanto che Giulietta è morta e quando di corsa torna nella sua Verona, lui che era stato esiliato per alterne vicende a Mantua, la trova morta. Si toglie la vita un istante prima che Giulietta torni dal regno delle tenebre, lei fa appena in tempo a trovarselo morto a fianco, trova un pugnale che fa sempre comodo in quei momenti e si uccide. La storia finisce, non c'è possibilità d'appello, la scrittrice immagina cosa sarebbe successo se Romeo invece fosse arrivato un po' dopo, ecco li vede dopo tre anni di matrimonio e non si sopportano più, perché Giulietta è una maniaca delle pulizie, perché invece Romeo non è molto propenso all'igiene personale, vogliono lasciarsi ed è una storia di una tristezza pazzesca. Ora Romeo e Giulietta però in questo contrasto ci dice esattamente che c'è un livello più alto di amore che è immaginabile soltanto nella potenza e quindi è come se due esseri umani dovessero dirsi addio velocemente, incontrarsi, chiarificarsi vicendevolmente le vicende, in un certo qual senso mettersi al mondo per poi abbandonarsi, lasciarsi e vivere una vita che insieme non sarebbe possibile a quella intensità. La stessa cosa era stata raccontata forse in maniera ancora più radicale in un altro film la cui protagonista è una dell'attrice che più amo, Barbara Streisand, che nel musical rock degli anni 70 impersonava la medesima parte che qui fa Lady Gaga, non si chiamava Ellie e non era italo-americana, era come Barbara Streisand, una donna di origine ebraiche di nome Esther, incontra un uomo che in quel caso è interpretato dal grande musicista country Chris Christofferson e la storia è sostanzialmente la medesima, esattamente come Bradley Cooper anche quell'attore, quel cantante fa i conti con i suoi demoni, lotta con l'alcolismo precipitandovi non prima di aver mostrato però a lei la via per arrivare al successo. Se è qualcuno che telefona per saperlo Bradley Cooper muore, perché passatemelo così. In maniera forse ancora più radicale, perché in maniera forse ancora più tosta, più tragica, nel musical degli anni 70 la Streisand nel suo personaggio Esther Hoffman vede precipitare appunto il suo uomo negli abissi senza poter fermarlo, esattamente come lui riesce ad innalzare lei invece verso la sua vera identità, laddove lei rimarrà sola ed è questo che costituisce l'ultima parte del nostro incontro di oggi, cioè la solitudine, che c'entra la solitudine con questa sfasatura del tempo. Perché dunque nel finale i due protagonisti maschili devono morire? È un problema di narratologia, è proprio un problema di storytelling, ha a che fare con un senso che deve essere tenuto alla luce di una mancanza, alla luce di un addio. È come se l'identità dovesse darsi proprio nella forza di questo addio, per questo entrambi i protagonisti devono morire, muoiono in maniera dissimile nei due film, adesso faccio un doppio spoiler, in maniera dissimile, tuttavia muoiono entrambi, l'uno con morte volontaria, l'altro con un incidente, eppure entrambi sono vinti dai demoni dell'alcol con i quali cercano di lottare, poi infine soccombendo rispetto a tale lotta. Tanto Chris Christopherson quanto Bradley Cooper appunto prendono mastodonti che sborni all'interno di tutto il film, infatti la parte un po' che è una falla della sceneggiatura è che mantengano dei fisici del genere bevendo come bevano. Questa è la parte fantasy del racconto. E tuttavia è una scrittrice a darci infine il senso del perché questa storia deve finire male, ed è Virginia Woolf, la quale in un suo famoso romanzo chiamato Mrs. Dalloway orchestrava esattamente la questione secondo questi parametri, è la storia di una donna che cammina per Londra, all'inizio l'aveva intitolato non a caso The Hours, questo romanzo, questa novel, titolo che poi cambierà nel più celebre Mrs. Dalloway, ma è questione di tempo, la storia si svolge tutta in una giornata in cui una donna di Londra chiamata Clarissa Dalloway attraversa le vie della capitale in un giorno di giugno e si accorge della bellezza di quello che ha d'attorno, ma improvvisamente le viene in mente la sua giovinezza e allora comincia a ricordare come era lei da ragazza Barton ed è come se questa memoria illuminasse la sua vita. Nel frattempo, mentre lei prepara una festa per la sera nella quale saranno invitati tutti i suoi amici d'un tempo, un giovane di cui lei non sa nulla si muove per le medesime strade di Londra ed è vinto invece dai fantasmi di una guerra che aveva combattuto poco fa e quel giovane dovrà morire, spoiler, anche lui improvvisamente all'interno della storia. I due non si incontreranno mai, ma alla festa la nostra protagonista Clarissa saprà della morte di Septimus Warren Smith, tale è il nome del coprotagonista, con il quale Virginia Woolf ha un rapporto di quasi identificazione, lei stessa come sapete lascerà violentemente e volontariamente questa terra, non prima però di aver scritto alcune tra le prose più meravigliose del Novecento, tra cui questo romanzo nel quale appunto lei decida a un certo punto, lo leggiamo nei diari, che sono un documento preziosissimo per capire la sua prosa, che il coprotagonista doveva morire affinché la protagonista potesse fare pace con il passato, perché quando le arriva la notizia di questa morte Clarissa, che pure non ha incontrato mai quel giovane, riflette sull'essenza della vita e capisce che fare i conti con il passato significa diventare davvero se stessi, accettare il proprio destino, ma Virginia Woolf scrive nel diario che una mancanza deve darsi affinché questa visione possa mostrarsi, non a caso le parole che concludono questo grande e magnifico romanzo sono quattro parole che in inglese suonano for there she was, perché lei era là, e a guardarla in quel modo è Peter, un suo vecchio amico che avrebbe voluto tanto sposarla, ma lei non volle sposarlo perché era un tipo non può fare di testa, e preferisce sposare un uomo molto più posato, un tale Richard, ma ora Peter la guarda e vede che lei era destinata a diventare questo, il presente si è posato, c'è una pace assoluta, una grande luce, non a caso Clarissa significa la più luminosa, ma è una luce che ha a che fare con le tenebre di una mancanza, di un addio, è una solitudine che si illumina in forza di una presenza che non c'è più, è il concetto di nostalgia che c'entra appunto con l'essenza dell'amore romantico, per questo Romeo e Giulietta non potevano sposarsi, per questo Clarissa per essere se stessa doveva sapere della morte di Septimus, per questo, e mi dispiace per voi, Bradley Cooper doveva morire.